buongiorno buongiorno a tutti buongiorno al direttore maurizio molinari buongiorno nuova rassegna stampa ultimo giorno di repide repide meraviglioso facciamo anche il punto su quello parti dalla prima pagina di repubblica o da repide cosa vuoi fare dalla prima pagina di repubblica dove c'è repide a bologna notte rock con la foto di piazza santo stefano piena il la musica è stato un momento di aggregazione importante al termine di una giornata che ha visto molti protagonisti impegnati nei nostri workshop c'è in prima pagina e richiamo a quello di michele serra sul grigio della guerra che ha consentito di essere protagonisti a molte delle persone che sono venute io credo che sia la soddisfazione più importante quella di far parlare i lettori farli interagire con il nostro giornale e questa sera come annunciamo dalla prima pagina appunto si chiude con gentiloni grossman e mahmood il titolo di testa putin minaccia l'unione europea vince chissà con noi è il discorso che il premio il presidente russo ha fatto da da san pietroburgo lo zar dichiara alla fine delle giovani americane la sfida all'occidente le sanzioni fanno male a voi il leader cinese che lui ha invitato a san pietroburgo è stato presente con un video messaggio sci ha detto i legami con mosca crescono la reazione di washington l'inversione russa fallirà intanto brussell apre la porta a ucraina e moldavia e abbiamo l'alletta sul gas nel nostro paese ecco su questa apertura ci vogliamo fermare perché ci sono un sacco di cose che volevo chiederti innanzitutto queste parole minacciose sono pesantissime e siccome mi è rimasta impressa la tesi di rei dalio nel nuovo ordine mondiale che prevede la fine dell'egemonia americana la diseguaglianza come fonte di guerra civile un conflitto che dividerà il mondo tra due blocchi usa e cina e russia dall'altro ho detto eccola la stiamo si sta avverando la profezia diciamo qual è la chiave di lettura la chiave di lettura è che il presidente russo ha giustificato sin dall'inizio l'aggressione all'ucraina con la volontà di cambiare gli equilibri di sicurezza in europa e di allontanare dalle sue frontiere la nato ora il punto è che lui confina con la polonia che è un paese della nato i paesi baltici che sono tre paesi della nato quindi lui sostanzialmente non si capisce bene cosa vuole invadere mezza europa lui sostanzialmente sta dicendo il mio progetto rimane questa è una sfida ad ampio raggio con nei confronti dell'occidente perderete voi vinceremo noi ma dice qualcosa in più che infatti per questo che abbiamo titolato su questo tema lui dice nei vostri paesi vinceranno i nostri amici cambieranno le elitte europee quindi lui sta dicendo agli italiani che chi governerà l'italia saranno i suoi amici una cosa pesantissima e direi di sì insomma è che tra l'altro corano dell'intromissione degli affari interni degli altri paesi è andato molto in là ieri ci vuole spaccare tutti anche perché lui a due leve con le sanzioni crea crisi economiche disuguaglianze che aizzano le nostre classi più deboli e oltre oltre alle sanzioni naturalmente col ricatto del gas ci mette anche in ginocchio dal punto di vista energetico ed economico non sembra poi così debole la sua strategia no è possibile che lui si senta rafforzato da una situazione militare sul terreno in ucraina che obiettivamente adesso sembra girare a favore dei russi quindi percepisce la possibilità di un indebolimento degli ucraini dopo 115 giorni di combattimenti e questo naturalmente gli dà forza è chiaro che l'altro messaggio di fondo che lui vuole dare agli occidentali dicendo voi fate le sanzioni contro di noi a noi non fanno assolutamente niente voi vi farete peggio di noi quindi le sanzioni si trasformeranno in un boomerang contro l'occidente e sotto questo punto di vista tu hai ragione è una maniera per dire noi tagliamo l'energia e voi state al caldo al freddo che sia ma insomma Mastro Lilli riporta la voce della casa bianca che ha un atteggiamento di silenziatrice non vuole riprendere non vuole dare troppo credito a queste tesi ma sul palco di repubblica delle idee ieri luci annunziata ha parlato di un'america che si sgancia dall'europa e caracciolo anche di una strategia sbagliata degli stati uniti che inizialmente volevano sostituire putin poi hanno capito di avere completamente sbagliato l'obiettivo la reazione ieri dell'amministrazione biden è stata molto prudente alle aggressioni verbali di putin la casa bianca ha lasciato parlare il dipartimento di stato e il dipartimento di stato ha ribadito il punto chiave del duello con putin che sostegna l'ucraina cioè perché putin alza il livello della sfida contro l'occidente perché vuole che l'occidente abbandoni l'ucraina questo è il cuore della sostanza lui vuole l'ucraina quindi alla fine della giornata il dipartimento di stato si legge il discorso di putin e gli ribadisce quello che lui non vuole sentire cioè l'invasione russa fallirà la strategia americana fino adesso è stata molto efficace ha portato la nato essere più forte e l'unione europea essere più coesa fondamentalmente l'occidente tiene in questa sfida con la russia ma tiene semplicemente perché i cittadini dei nostri paesi comprendono che se uno inizia abbandonando un paese poi alla fine tu non hai la garanzia che quello non vada avanti non a caso ieri il ministro degli esteri laurova ha detto dopo l'ucraina faremo la moldavia e però van der Leyen dice no la faremo entrare nell'UE esattamente infatti anche lì devo dire russola van der Leyen la presidente della commissione europea ha dato la risposta più pertinente perché anche qui la russia vuole invadere la moldavia l'unione europea muove la sua pedina e dice attenzione perché la moldavia entrerà nell'unione europea è un po un duello fra due idee di europa un'europa da costruire attraverso l'unione europea come si sta facendo nel 1957 invece una vecchia idea basata sulla guerra sulle invasioni sulle aggressioni che putin sta riproponendo nelle nostre vite poi che cos'altro abbiamo nella prima pagina abbiamo bellissimo pezzo di sebastiano messina sui guai e lo scontro all'interno del movimento 5 stelle con un incipit stupendo fra di maio e conte rissa finale in chiave tragicomica sì tragicomica e qui naturalmente perché i due personaggi di punta dei grillini continuano a duellare dice dice sebastiano ora che la parabola di un movimento passato dal vaffa le porchette alle poscette a tre punti fosse in base calante si era capito da un pezzo ma onestamente nessuno si aspettava questa scoppiettante resa dei conti un colpo di scena dopo l'altro con i personaggi che entrano tutti insieme sul palcoscenico e se le danno di santa ragione tra i fischi del pubblico e le urla dell'impresario che è grillo che è grillo la realtà vera è che il movimento 5 stelle è stato nel 2018 espressione ha vinto quelle elezioni espressione di una protesta come molti movimenti di protesta è riuscito a vincere la battaglia politica ma poi le sue azioni le sue decisioni non hanno premiato la protesta medesima e quindi i suoi elettori semplicemente se ne stanno andando o se ne sono già andati è una parabola che nella storia delle democrazie si vede molto spesso adesso il vero interrogativo è dove andranno i voti dei 5 stelle resteranno in un alveo progressista di centro-sinistra oppure andranno in maniera sensibile ai nuovi movimenti di protesta penso ad esempio alla miloni o consentiranno a Salvini di salvare la propria leadership dentro la lega noi questo non lo sappiamo però obiettivamente se noi vediamo gli studi sulle ultime amministrative la prima tornata delle amministrative abbiamo appena appena attraversato la percentuale più alta di astenuti riguarda proprio i grillini e i leghisti quindi sono voti in libera uscita un pezzo di giovanna casadio di oggi ipotizza un polo riformista in cui sala potrà attrarre di maio e un po di quelli che si sono incontrati a new york e una bellissima storia sala punta molto sui temi dell'ecologia e dell'ambiente dovrà però naturalmente far convivere tutto con il ruolo di sindaco di milano è un cammino non semplice da da gestire e una delle ipotesi appunto è che inizia a circondarsi di altre figure politiche come come di maio vedremo certo di maio deve scegliere fondamentalmente se stare dentro fuori il movimento 5 stelle un po questa la questione nel fogliettone della prima pagina di repubblica abbiamo tre storie molto belle abbiamo l'addio a trintignan l'antidivo di talento segnato dalla via dalla vita il protagonista del film il sorpasso con con gas man abbiamo un'intervista dino zoffo amato bearzotto più di mio padre c'è questa figura di bearzotte che sta tornando a noi avevamo fatto un'intervista a tardelli un paio di giorni fa dove parlava molto del suo legame con bearzotte per oggi dino zoffo torna sul tecnico grazie al quale l'italia vinse il mondiale nel 1982 e poi l'intervista a nelson l'amministratore della nasa che è anche un ex senatore democratico un personaggio straordinario che dice noi della nasa useremo la scienza per fare luce sugli ufo allora io voglio dire una cosa l'anno scorso inventamo una formula che si chiama long form a pezzi molto lunghi molto ben scritti che andavano sia che vanno sia sul sito sia sul giornale e uno di questi long form molinari lo volne lo volle dedicato proprio agli ufo che in realtà sono oggetti non identificati e questo questo ci colpì perché inizialmente distinto in italia se pensi agli ufo dici ma no ma se ne parliamo poi diamo voce diamo spazio a quelli che hanno chissà quali strane idee invece il senatore a fraioli oggi dice proprio la cosa giusta ma no la nasa indaga su questo proprio perché lo fa come scienza proprio perché bisogna capire le cose senza nessun pregiudizio né in un senso né nell'altro quindi questa laicità totale che viene forse da una mentalità più americana si molto aperta soprattutto perché come dice in maniera molto molto razionale no quando fraioli gli chiede ma lei crede davvero che esistano altre forme di vita intelligente al di fuori della terra e lui risponde ne sono convinto e il motivo sono le dimensioni dell'universo che ha miliardi di stelle nella nostra galassia e miliardi di galassie come la nostra quindi è del tutto possibile che esistano pianeti con condizioni favorevoli alla vita e alla vita intelligente lo dice la matematica insomma è un approccio logico da parte di un ex astronauta e del capo dell'agenzia di spaziale americana è ragionevole è interessante però che poi affronta la sfida parallela dell'ambiente di salvare la terra e di salvare il clima e il pianeta e alla domanda di fraioli sarà più facile trovare un altro pianeta che ci possa ospitare o salvare la terra che è una domanda bellissima formidabile perché il problema perché nasce da questo nasce da questo perché noi usiamo da più risorse di quanto il pianeta di quanto il pianeta ce ne consente fondamentalmente e lui risponde entrambe le cose la terra è l'unico pianeta che abbiamo a disposizione ma al tempo stesso non dobbiamo rinunciare all'esplorazione quindi dobbiamo fare l'impossibile per salvare e proteggere il nostro pianeta e dobbiamo al contempo dedicare ogni sforzo per tentare di capire se là fuori c'è qualcuno che vuole parlare con noi forse lo spazio ci dirà anche come salvarlo su qualcuno che vuole parlare con noi ti volevo raccontare una piccola cosa per i suoi 80 anni andrai a casa di margherita l'astrofisica che stava in leggings da ciclista in maglietta simpaticissima con un sacco di gatti lasciava i croccantini in giro per la casa e li faceva mangiare sulle scrivanie maggiore libri di figli astrofisica sulla vita intelligente nello spazio lei mi disse una cosa che mi terrorizzò cioè sicuramente c'è in base alla possibilità e alle dimensioni di cui hai appena parlato ma se ci sono speriamo che non arrivino prima loro perché vuol dire che sono più intelligenti questo mi me lo ricordo ancora assolutamente poi sempre con repubblica oggi troviamo robinson il nostro la nostra rivista letteraria curata da dario olivero che affronta il tema della maturità il titolo in prima pagina notte prima degli esami e ci sono tre articoli strepitosi che io personalmente vi consiglio di leggere francesco piccolo silvia ronchei e chiara valerio almeno l'incipit di francesco piccolo vogliamo leggere vai tu io vai tu bisogna prenderla così state costruendo un'epica per il futuro state costruendo anche gli incubi per il vostro futuro ogni tanto nel corso della vita qualcuno tirerà fuori l'esame di maturità e voi avrete la vostra epica direte che l'avete fatta nel 2022 e non puoi capire cosa mi è successo e comincerete a raccontare come come lui dice nel bene e nel male nessun momento della vita lascia la stessa traccia poi girate pagina e leggete un altro incredibile pezzo di silvia ronchei una delle firme che io sono più orgoglioso di ospitare sulle pagine di repubblica che racconta la prova di maturità di sigmund freud e anche che sigmund freud raccontava che suoi pazienti tutti o non tutti ma tantissimi avevano come incubo proprio il l'esame di maturità a sognare che ti fanno le stesse domande per anni anni nel 1873 alla maturità il padre della psicanalisi si imbattì nella tragedia di sofocle e nell'eroe greco intorno al quale ruoterà tutta la sua teoria rivoluzionaria dell'inconscio fu un caso o il destino e poi il pezzo di la della nostra chiara valerio sul tema che per me fu quello più difficile la matematica dimostrate che la vita è matematica è l'unica disciplina che si esprime ed è raccontata in un alfabeto che non parliamo per questo ci sembra estranea ma algoritmi modelli statistiche probabilità servono a farci stare assieme agli altri e sono una straordinaria e grande lezione di democrazia riesce sempre ad avere una visione unica chiara valerio però un ricordo di maturità adesso alle porte della maturità di tanti ragazzi ce la devi dare ma guarda io ti dico questo e all'epoca il massimo era 60 io feci un tema di italiano e un'esposizione degli esami orali che andò bene ma la matematica io non era la mia materia non era il tuo mestiere un quattro e mezzo devastante la commissione si sorprese di questa cosa dice scusi ma come è possibile e allora mi chiesero di spiegare il motivo per cui avevo preso quattro e mezzo nel compito di matematica e io quindi feci un'esposizione dei miei errori di talmente buona che arrivai a 60 però fu molto severa con me stesso e di di oggi in edicola abbiamo lo speciale lavoro moda uomo e il nuovo di di emmanuele farniti è per noi una pubblicazione molto importante perché la sua idea della moda è quella di declinarlo nel presente cioè la moda non è qualcosa che vive isolato dalla realtà non è solamente merchandising non è solamente il consumo la vendita la pubblicità di prodotti ma è una forma di racconto che attraversa l'attualità e credo che in questo lui abbia molto ragione non solamente perché la maniera migliore per raccontare uno degli aspetti più interessanti del made in italy ma anche perché da in qualche maniera giustizia a tutte quelle migliaia di italiani che lavorano in questo settore dell'economia mettendo tutta una serie di idee genialità creatività che obiettivamente riflettono il mondo nel quale noi tutti viviamo la stampa la stampa di di torino titola crisi del gas l'italia prepara l'allerta che naturalmente un impatto delle decisioni che arrivano da mosca poi c'è un pezzo di ludovico poletto quella grande sete che parte dal piemonte e arriva fino in puglia il tema che avevamo trovato anche l'altro giorno sul repubblica e poi abbiamo questa intervista di giulia zonca alla pellegrini giulia zonca è una giornalista della stampa che conosce la pellegrini come come pochi praticamente ogni volta che si incontrano ci sono storie a non finire e in questo caso federica si confessa alla vigilia dei mondiali e che cosa dice federica pellegrini a giulia zonca bisogna aiutare gli atleti trans e questo messaggio importante perché che vedere con i diritti e poi annuncia mi sposerò in chiesa in abito bianco anche questo è un ci aiuta a comprendere meglio tra l'altro in prima hanno anche litigietto sul pride perdonami ma davvero repubblica e la stampa quest'anno si sono impegnate in prima linea per i diritti della comunità lgbtq assolutamente sì repubblica è stata a roma con il proprio striscione è stato un momento importante abbiamo avuto un feedback da moltissimi lettori è stato anche molto bello la genesi all'interno del giornale della scelta di essere parte del del pride di roma e torino fra un carro il corriere della sera titola su grillo grillo boccia il terzo mandato e agita il movimento 5 stelle di maio a conte no al partito dell'odio ecco questo intervento di grillo di ieri su si può anche far andare via un grande qualche grande uomo con il secondo mandato quindi si può far uscire di scena di maio è davvero impressionante oppure siamo noi che stiamo calcando no obiettivamente c'è questo elemento di rivalità fra questi due leader che poi sono in realtà così diversi ma hanno collaborato anche così strettamente fra loro che ha degli aspetti obiettivamente teatrali roba fratricida e fratricida è anche la lite nel centrodestra a verona qui c'è un'intervista di riccardo bruno sempre sulla concorrenza del corriere della sera a sbuarina che chiude a tosi mai contosi cioè significa che centrodestra si divide offrendo al centrosinistra la possibilità di conquistare la città di verona e poi abbiamo il coved che secondo me ha fatto bene il correre della sera a metterlo in prima i contagi crescono del 40 per cento e quindi naturalmente gli esperti medici stanno iniziando a porsi la questione di quando dobbiamo usare però mascherina però noi abbiamo l'intervista che io ho subito letto in allarme con l'esperto che dice che da settembre ottobre avremo un vaccino ci copre tranquilli a tutto a queste varianti anche se parte dal virus di one copre tutte le varianti rassereniamoci lo aspettiamo ad usino intervista e poi sempre dalla prima pagina del correre della sera londra ordina l'estradizione per assange è stato il cofondatore di wikileaks è accusato negli stati uniti di aver violato tutta una serie di segreti nazionali mettendo a rischio le vite di numerosi americani per molti anni si è rifugiato nell'ambasciata dell'equador a londra adesso il governo inglese è arrivato alla conclusione che per il 51enne australiano accusato di spionaggio è arrivato il momento di fare i conti con la giustizia americana come finirà può ancora far ricorso può ancora far ricorso però poi alla fine io credo che lui dovrà rivelare alla giustizia americana le fonti grazie alle quali ha violato così tanti segreti punto è il vero sospetto che hanno gli americani e che assange non si giovò solamente della collaborazione delle persone che noi conosciamo e che ovviamente fece una scelta d'opinione nell'aiutarlo ma il sospetto della giustizia americana è che ci furono anche degli aiuti da parte di nazioni straniere ed è su questo io credo che si svolgerà il processo ad assange sarà un processo che farà storia e che seguiremo dando come sempre voce a tutte le parti in causa sulla vicenda di putin c'è una bella intervista michael waltzer di giuseppe sarcina sul corriere della sera dove waltzer analizza la mente di putin e dice a me lo zara in mente un mondo del passato e vuole solamente spettirsi le sfere di influenza come si faceva nell'ottocento anche e nel novecento e c'è un'altra storia bella di guido olimpio il secondo giorno di seguito che lo citiamo ma merita perché racconta la storia di una spia russa che è stata fermata all'aria faceva finta di essere brasiliano aveva questa falsa identità da 12 anni e qual era questo però la cosa interessante qual era la sua missione inquinare le prove sugli cibi commessi in ucraina il suo compito era di vivere in occidente e diffondere informazioni che delegittimavano tutte le notizie che arrivavano dall'ucraina in medio agli cibi questo ci dà un'idea di come funziona la disinformacia russa che lavora innanzitutto sul lungo termine perché questa persona viveva in occidente da 12 anni quindi aveva avuto una famiglia una storia un lavoro un'identità in brasile no e una volta che si è insediato in occidente a un certo punto gli hanno dato una missione qual è la missione diffondi falsità sulle stragi in ucraina così difendi l'interesse della russia questo è come funziona la disinformazione chissà quanti ce ne sono chissà questa è una bellissima domanda chissà quanti ce ne sono esattamente vediamo il foglio di cerasa che ha due pezzi di in prima pagina su argomenti differenti che meritano una un'intervista a roberto valtieri che il sindaco di roma perché questa intervista ha un valore nazionale perché il sindaco di roma che eletto dal centro sinistra del pd ex ministro del tesoro dice io vado avanti con il termo valizzo termo valorizzatore e spero che il movimento 5 stelle aiuti la capitale perché in realtà il momento 5 stelle non vuole il termo valorizzatore questo scontro sulla distruzione dei rifiuti nella capitale per chi vive a roma la questione dei rifiuti è una è diventato un elemento esistenziale e valtieri ha una strategia i 5 stelle non la condividono lui ritiene che si tratti di bizze incomprensibili noi sappiamo che uno dei grandi elementi di divisione fra il pd e i 5 stelle per loro è una questione fondativa altro che bizze sono andati avanti anni con la ragia non fare questo termo valorizzatore avrà la forza di farlo anche senza di loro io ho vissuto la domanda la domanda giulia è legittima perché ad esempio io ho vissuto per molti anni a torino a torino che era fare altre cose governato dai 5 stelle perché c'era l'appendino ma l'appendino se l'è trovato il termo valorizzatore non è che l'ha demolito cioè l'ha tenuto l'ha gestito il termo valorizzatore consente alla città di torino di eliminare i propri rifiuti io sono rimasta all'invita perché al salone del libro a metropoli si invitata le abbiamo ricordato questo termo valorizzatore e lei di fronte alla realtà che funziona benissimo che a torino questo ciclo è perfetto che lei se l'è trovato pronto si però noi per principio siamo contrari e quindi non ce n'è non si convinceranno non non lasceranno su questo punto e l'altro pezzo della prima pagina è un'intervista al presidente del milan scaroni che parla del calcio alla deriva non solo stadio diritti tv ma c'è il problema della crisi e che cosa dice scaroni sulla sul calcio italiano dice la nostra serie a è diventata una serie b se comparata con gli altri campionati europei ci hanno superato tutti o quasi negli ultimi 20 anni e dunque c'è un il rischio di un declino desti che potrebbe diventare inarrestabile e quindi questo spiega perché così tanti stranieri stanno arrivando in italia c'è anche questo show che si è comprato il palermo lato giorno il punto vero è che il calcio italiano è disponibile a cifre molto competitive la situazione di crisi ci espone al rischio di essere sostanzialmente acquistati da altri protagonisti il presidente del milan che è la squadra campione in italia suona questo campanello di allarme succede al calcio come a tante altre realtà esattamente esattamente da qui forse la necessità di una riforma è capace di rafforzare e rilanciare le squadre italiane la tesi di scaroni nel pezzo uscito sul foglio è che bisogna partire dagli stati bisogna partire dalla ristrutturazione degli stati gli stati devono essere strutture moderne che consentono alle società di auto mantenersi di favorire tutta una serie di consumi e di diventare poi un polmone di sviluppo non solamente per la società ma per la città dove si trovano perché è una questione molto delicata per il milan perché si sconta con la sorte di san siro milan e inter devono sostanzialmente decidere se avere due stati diversi o rinnovare quello di san siro l'incapacità di mettersi d'accordo porta a mantenere la struttura di san siro ma questo lo capiamo tutti è molto difficile perché due società che sono in competizione su tutto si mettano d'accordo sulla ristrutturazione di uno stadio obiettivamente mi sembra un una sfida molto difficile anche per sala in america come funziona naturalmente i privati se le gestiscono assolutamente fruttano oro sono dei posti molto accoglienti dove le famiglie vogliono portare i bambini perché ci sono tutta una serie di svaghi di intrattenimenti sono dei posti dove fa piacere stare pulitissimi dove si mangia si gioca si può anche assistere allo spettacolo sportivo ma si può anche non farlo sono fondamentalmente dei posti di aggregazione che ovviamente servono agli interessi delle società perché le società in questo momento in questo modo aumentano i loro proventi e si e si automantengono io credo che un po questo l'idea che scaroni ha in testa e forse è legittimo chiedersi perché come dice lui l'età media di uno stadio in italia è 74 anni cioè è qualcosa obiettivamente siamo quasi a livello dell'archeologia libero libero in prima pagina c'è una notizia su alessandro di battista noi la mettiamo più piccola alessandro di battista va a mosca ma solo per fare l'ennesima vacanza scrive filippo facci di che cosa si tratta si tratta del leader diciamo dell'opposizione a di maio all'interno dei cinque stelle uno dei fondatori dei cinque stelle legato molto a grillo che dopo essere stato negli ultimi anni in vacanze in america centrale in iran adesso ha deciso di fare due mesi di vacanze di viaggio di studio di approfondimento in russia vacanza quelle lui le chiamava dei viaggi in cui faceva reportage approfondimenti poi aperto anche dei corsi online sai per spiegare pare che voglia arrivare fino a vladivostok quindi fare tutta la transiberiana e sarà poi interessante vedere sapere ascoltare l'esperienza di battista faia in russia e come poi la racconta l'unica cosa che io posso dire semplicemente da cronista che quando è stato per alcune settimane in iran ed è tornato non ha raccontato nulla quello è provato aveva detto che ci avrebbe raccontato il suo iran io ero molto curioso di sapere no aspetti dei diritti diritti delle donne diritti degli omosessuali ma tutti questi argomenti delle minoranze no libertà di opinione ma non c'è non ce l'ha raccontato noi abbiamo titolato di battista si prepara una spremuta di russia questo è si chiamano spremute non è una cosa speciale comunque sarà una bellissima storia da seguire e chiudiamo con il resto del carlino che apre il giornale con l'estate torrida l'incubo dell'acqua razionata la situazione disperata soprattutto al nord si studiano le contomisure compresa la chiusura dei rubinetti per fasce orari multa antisprechi regione per regione i danni all'agricoltura con le opinioni di un climatologo che dice arriva il super caldo ecco quello che ci aspetta e infine esattamente come abbiamo fatto ieri chiudiamo con la virtus a milano per sognare serve l'impresa il racconto delle finali scudetto che vedo bologna protagonista dobbiamo chiudere tu devi anche andare a un incontro io impazzisco col programma di rapide perché ci sono troppe cose alle 10 30 sta per partire un appuntamento gustosissimo perché ci sono bonini carlo bonini e gianrico caro figlio che parlano di manomissione delle parole un po riprendendo il manuale di caro figlio manuale delle fallace come difendersi dagli imbrogli nel discorso politico però la giornata è fittissima solo per dire che cosa stai per affrontare tu oggi devi confrontarti con gentiloni descalzi bonaccini a piazza maggiore alle 7 alle 20 ci saranno senza di te zuppi la in valerio con bei ma poi ritorni e alle 21 incontri david grosman e alle 22 45 mohamud come dice gran finale una giornata pazzesca seguita rapide grazie a tutti grazie maurizio e grazie giulia di senta in ti seguiremo grazie a voi